Sciopero e Sittin nel cantiere sulla Statale 76. I lavoratori della Quadrilatero chiedono di sbloccare i finanziamenti per completare le opere e scongiurare i licenziamenti. Per Paolo Rivalta. Appesi al CIP, isolamento viario, incompiute, circolazione stradale pericolosa, sono tanti i fantasmi evocati nella manifestazione dei lavoratori della Quadrilatero. Ma prima di tutto c'è un problema di occupazione. 59 posti a rischio, procedura di mobilità già avviata, forse riducibili a 48 con trasferimenti e prepensionamenti. Sono i dipendenti della Staldi impegnati a completare il nuovo tratto della Statale 76 tra Fabriano e Serra San Quirico. Poi si dovrebbe passare i lotti 3 e 4 della Pedemontana verso Muccia. Servono 110 milioni di euro che il CIP appunto non ha sbloccato. Ci sono i sindaci di Fabriano e Genga, c'è anche la parlamentare Patrizia Terzoni, 5 Stelle, che a nome del governo annuncia una riunione preparatoria l'11 ottobre in cui il CIP potrebbe dare via libera. La variante 6 della Strada Statale 76 che cuba quei 10 milioni di euro sono soldi lavorabili e aggredibili immediatamente. Quindi ci darebbero una continuità lavorativa per queste persone che ad oggi sono nella tagliola di licenziamenti collettivi per poi arrivare al poter andare ad aggredire il terzo e il quarto lotto della Pedemontana che ad oggi devono ancora rappresentare il progetto esecutivo. Quindi c'è un altro ulteriore passaggio. Ci hanno annunciato questa preseduta del CIP l'11 ottobre. È una cosa positiva perché è chiaro che se arrivasse il CIP con questa tempistica noi avremmo comunque la possibilità di recuperare parte di quello che è l'esubero occupazionale. Noi speriamo almeno nella soluzione all'ultimo momento per il discorso quadrilatero. Qui ci vanno di mezzo tante famiglie, un'infrastruttura, un'arteria fondamentale per tutto il nostro territorio, un rischio veramente incompiuta che credo che con la viabilità che c'è oggi non ci possiamo permettere nessuno. Lo sciopero, otto ore e il blocco all'altezza dello svincolo di Valtreara sono solo le ultime iniziative promosse dai sindacati in un'avvertenza che ancora una volta colpisce il comprensorio fabrianese.